Maraviglioso, grazie, fate un applauso che è qui tra noi. Mi sono piaciuti, c'è un autore di questo in sala? Nessuno ha avuto il coraggio di presentarlo. Vieni, vieni allora, così almeno il rappresentante di tutti i pickers. Ma chi sei, Alfonso? Sono delegato di Amedeo. Ah, delegato di Amedeo, vabbè, vieni lo stesso, giusto per sfoggiare la tua bella maglietta che hai messo oggi, in onore. Facciamo un applauso ad Amedeo e ad Alfonso insieme. Alfonso è il nostro picker dalla costiera amalfitana, giusto? E sei delegato di chi? Guardate la maglietta che mi ha messo. Mi rappresento il Papersera, che è un componente importante del Papersera. Ah, e lui ti ha delegato a venire a ritirare il diploma esclusivo in edizione numerata? Lui aveva fatto un viaggio nel tempo e sapeva già di aver vinto. Ah, ma ho capito lui chi è, sì sì, no ma certo, è un grande frequentatore, diciamo, delle fiere. Quindi, allora, posso mostrare il prendi, questo è il prendi, dopo lo facciamo firmare, autografato da Claudio, è un posterino esclusivo e naturalmente questa è una delle 1250 versioni della copertina componibile e che quindi è diventato un oggetto di culto, non lo deve rubare più, questo è D'Amedeo. Diploma. Ah, giusto, diploma, allora per i diplomi, dopo vediamo se riusciamo a consegnarli tutti qui, altrimenti dobbiamo trovare con un'idea molto intelligente un luogo forse allo stand, però ci pensiamo dopo. Allora, grazie mille Alfonso. Grazie a voi. Bene, prima di passare a richiamare tutti i nostri autori sul palco e a lasciarvi un po' di tempo per le domande, vorremmo chiedermi se qualche picker di voi se la sente di venire sul palco e di raccontarci che cosa significa essere picker e che cos'è questo orgoglio picker per lui. C'è qualcuno che vuole sporsi a questa cosa? Oh, una femmina! Giro dall'altra parte che così mi danno il microfono, bravissimi. Buongiorno, benvenuta.